Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale, rieccomi con un video tutorial, qui vi mostro un make up firmato Charlotte Tilbury, per prima cosa vado ad applicare il fondotinta l'Airbrush Flawless Foundation in colorazione 5N, lo stendo sul dorso della mano, poi con un pennello questo è di MAC, settole fitte, vado appunto a stenderlo su tutto il viso, fondotinta ad alta coprenza, effetto super opaco, non si sente sulla pelle, io lo trovo un ottimo fondotinta, mi trovo davvero benissimo, un'ottima durata, ecco qua, dopodiché passo al correttore, il Magic Away, io lo utilizzo in colorazione 5, lo stendo con questo pennello e poi successivamente con una spugnetta per togliere l'eccesso, dopodiché passo al Flawless Filter, l'Hollywood Flawless Filter, solo per illuminare, quindi nelle zone appunto che voglio illuminare, con una spugnetta vado appunto a diffondere il prodotto, dopodiché fisso il tutto con l'Eye Brush Flawless Finish in colorazione 1 Fair, la più chiara, prima con un pennello piccolo di precisione, dopodiché passo ad un pennello un po' più grande e per tutto il resto del viso. Passo poi al Fimstar Bronze & Glow, quindi vado a fare il mio contouring con la terra opaca, quindi vado ad assottigliare un po' il viso e poi con un pennello un po' più sottile vado ad assottigliare un po' il naso, un pennello da sfumatura. Con una spugnetta tolgo l'eccesso, dopodiché passo al Bronzer, l'Air Brush Bronzer in colorazione 2 Medium, vado a scaldare appunto l'incarnato, dopodiché passo al blush, in questo caso è il Pillow Talk, amo questo blush molto molto naturale. Passo poi all'illuminante sempre della Fimstar Bronze & Glow, nella parte alta degli zigomi e fisso il tutto con lo spray fissante di Stefania D'Alessandro. Dopodiché passo alle sopracciglia, vado a ridisegnarle, ridefinirle prima con un pettinino, uno spazzolino diciamo, e poi passo alla matita, questa è di Stefania D'Alessandro, è la Tec, vado appunto a ridefinirle, riempirle in modo molto molto naturale. Una volta fatto questo vado a pettinarle nuovamente, e poi le fisso con un ombretto, sempre di Stefania D'Alessandro, color brown, quindi marrone scuro, con questo pennellino in diagonale 1, piccolissimo di precisione, e vado appunto a fissare la base cremosa. Una volta fatto questo ovviamente vado con lo spray fissante e fisso con questo pettinino, fisso le sopracciglia e voilà, base fatta. Dopodiché passo agli occhi e in questo caso utilizzo una matita marrone scuro, questa è la Barbarella Brown di Charlotte Tilbury, vado all'attaccatura delle ciglia, quindi sto molto attaccata alle ciglia, rimacigliare superiore, quindi vado appunto a riempire tutti gli spazi. Dopodiché cerco di trovare la mia inclinazione, quindi inizio a creare la mia struttura del trucco che voglio realizzare, quindi creo una sorta di V che vado man mano a intensificare e in questo caso vedete vado proprio così a piccoli tratti, vado a fare appunto questa V, non sono precisissima, vado anche nella rimacigliare inferiore esterna, anche se non sono precisa non fa niente perché tanto andrò a sfumare prima con un pennellino diagonale, sempre di Stefania ed Alessandro, questi pennelli sono ottimi, ve li straconsiglio, quindi vado prima appunto con un pennello così, poi vado con un pennello piatto, questa è lingua di gatto, LG2 e vado a sfumare appunto questo tratto prima verso l'esterno, poi verso l'interno, dopodiché passo ad un pennello a penna, questa è l'R1 e vado ad ammorbidire la mia sfumatura verso l'interno e verso l'esterno, in questo modo, con un cotton fioc poi vado a correggere eventuali sbavature, poi prendo l'ombretto marrone che c'è appunto sulla palette di Charlotte Tilbury, The Super Nude e vado a fissarmi la base cremosa fatta con la matita, quindi vado prima con il diagonale e vado a fissarmi tutte le linee che ho creato precedentemente, dopodiché riprendo nuovamente il marroncino però con un pennello come questo a lingua di gatto, le LG2, vado a prima fissarmi sempre tutta la parte cremosa della matita, dopodiché vado a sfumare sempre verso l'interno e verso l'esterno, in questo modo. poi passo al pennello, sempre a penna, l'R1, anzi no, questo ho preso direttamente quello un po' più grande che è l'R2 e vado ad ammorbidire le mie sfumature, sempre verso l'interno e verso l'esterno, prendo poi un color top e vado soprattutto sulla piega a creare appunto quest'ombra, prendo poi questo color mattone e vado a stenderlo sulla parte della palpebra mobile, prendo poi il nero, decido di intensificare l'angolo esterno e intensifico anche l'arima ciliare sia superiore che inferiore, passo poi la matita all'interno della congiuntiva e vado a fissarla sempre con l'ombretto nero. E' il momento del mascara, il pillow talk, amo follemente questo mascara, mi regala un volume e una lunghezza pazzesca, mi piace davvero tantissimo, è ormai diventato il mio mascara preferito. E' il momento delle labbra, ovviamente immancabile per me la matita di Charlotte Tilbury, la Super Size Me, quindi definisco il contorno, riempio, sfumo, dopodiché vado con il rossetto, questo è meraviglioso, profumatissimo rossetto di Charlotte Tilbury, In Love with Olivia, uno tra i miei preferiti, vado appunto a stenderlo in questo modo, adoro. Trucco terminato, grazie per avermi ascoltato, per aver seguito tutto il tutorial, vi lascio qui di seguito gli swatch, qualche foto in dettaglio e vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao!